Tu pensi che nel tennis il punto sia esprimere te stesso, il tuo gioco? Non sai cos'è il tennis. E cos'è? Tashi, Duncan, è giù un altro livello. Sei stata pazzesca oggi. Ne lo fai! Avrà una linea di moda, una fondazione. Trasformerà tutta la sua famiglia in dei milionari. Ho una proposta da farti. Purtroppo il mio unico talento è colpire la palla con una racchetta. Potresti fare la mia coach. Ti voglio come mia coach. Vi capita spesso di volere la stessa ragazza? Qui, dai. Chi di noi due vuoi che... A questo gioco conta vincere i punti che valgono. Non servono trucchi psicologici. Vieni a farti una sigaretta, ti devo parlare. Io non fumo e non ci parlo con te. Non è innamorato di te. Pensi che voglia qualcuno innamorato di me? Ehi, ti amo. Lo so.